registra anche di meno eh non si vede tanto la forza è forza dalla velocità registra quando vado gioco a sinistra la porto là e la destra la porto in avanti dovresti cercare di arrivare un po' più spesa perché a sinistra anche qua boom a sinistra si ferma destra non c'è questo oriente il taglio deve essere finito lì proprio indietro la posizione iniziale aiuta come difesa quando ti voglio stare di fronte se faccio questo lascio tutto lo spazio dell'ombra attaccare tengo la risale lontano se lui arriva posso tanto difendere con l'impugnatura questo mi scopre per quanto tagliare uno tengo posizione e la distanza quindi non portiamo la braccia qui lasciamo la uno due non lascio spazio avversario l'impugnatura si le tengo quasi tese se sono tese non le rubiamo il via quasi tese faccio scorrere dietro al finale scegliere se lo andiamo qua ok andiamo il terzo taglio dall'alto guarda te taglio invece che firmarmi te in alto taglio in alto taglio in alto il govendo lo stesso si può fare sia da qui che dall'aspetto allunga il piede invece che portami dietro il sinistro Allora, guarda! Guarda, guarda! Puoi caricare un all'appo o caricare un po' di spalla? Occhio su me è questo, non è così. La soluzione è prima di forza, va? E lì in avanti al tassi, e l'opo di pollo. Siamo così, lì in avanti al tassi, la voglio di per la strada, perché la gomiglia. Tantale, tantale, avanso, la primera, uno, due, tre. Passo in guardia, la seconda guardia, avanzo, taglio. Cos'è la cosa importante? E' che il busto da montare arriva ad essere diagonale. Quindi taglio, il quattro a sinistra, il quattro a sinistra arriva a stendersi completamente, io ho quindi tagliato qui, non è solo a punta là, ma è la sinistra che va avanti. Quindi le mani che va avanti. Sì, via. Sì, via. Sì, via, via qua. Rotazione. Diete. Sì, via, via. Facciamo l'ammingsario. equissimo! è più comodo perché il sinistro ha percorso libero il percorso del campo viene bloccato dal braccio destro, in questo caso è incrociato, è meno naturale perché il percorso viene bloccato in anticipo si possono fare ovviamente sia avanzando che senza avanzare posizione di guardia, avanzo, taglio posizione di guardia, avanzo, taglio posizione di guardia, avanzo, taglio uno anche qui uno la cosa importante è che sia l'impugnatura a guidare la spalla e non la punta, se non è questo perché questo contagia posso fermarmi tranquillamente con la punta e la spalla davanti alla faccia poi vado di qua e la parte si incrocia o la parte no? la parte di questa parte no, sempre per la guardia esatto, ci siamo, fai questo contagio tira più sul braccio sinistro esatto, l'abbiamo aperto e abbiamo porto quasi via con la faccia quindi per me quanto di? Luca a Catano dovrebbe essere un'estensione...